buona giornata amici da massimo foghetti oggi è martedì 25 gennaio 2022 il sole questa mattina sorge alle 7.30 e tramonterà alle 17.08 vediamo subito qual è l'avvenimento perché non è un santo che si festeggia oggi oggi si festeggia la conversione di san paolo apostolo uno degli episodi più noti degli atti degli apostoli quindi del vangelo ve lo ricordate san paolo stava dirigendosi verso damasco quando a un certo punto è colto da una luce accecante una luce improvvisa che lo fa cadere da cavallo ebbene in quel caso è il signore che gli parla e da quel momento san paolo si converte diventa cieco per un momento per insomma per qualche istante poi viene condotto a damasco dove il sacerdote anania gli ridà la vista da quel momento il grande persecutore dei cristiani diventerà l'apostolo delle genti predicando in tutto il mondo conosciuto di allora le sue lettere sono un una base una roccia importante per quanto riguarda appunto la conversione dei primordi della chiesa e morì a roma lo sappiamo fu decapitato nel luogo dove attualmente sorge la grande basilica che fu ristrutturata nel 1800 guarda caso dall'architetto poletti lo stesso che fece il teatro della fortuna di fano volevo dirvi anche che san paolo è un nome che il nome di paolo è un nome molto molto noto quindi oggi auguri a tutti coloro che lo portano e vediamo subito ora le previsioni del tempo il tempo rimane solleggiato su tutta la nostra regione vediamo un attimo la grafica e vediamo qui che qualche nuvoletta però appare ci sono più nubi in mattina le temperature sono in lieve calo le massime aggiungeranno i 7 gli 8 gradi la ventilazione è debole dunque una giornata ancora buona tutto sommato dopo le alte temperature e le alte pressioni dei giorni scorsi cominciamo la rassegna stampa a partire dal corriere adriatico questa mattina vediamo la pagina di fano dove si parla dell'esito della riunione della commissione garanzia e controllo che si è svolta nel pomeriggio di ieri su richiesta delle minoranze la commissione che parla soprattutto dell'argomento del giorno un argomento che è stato trattato molto diffusamente molto analiticamente nei giorni scorsi dai giornali vediamo subito il titolo con cui viene evidenziato il tema dipendiamo da aset per 3,8 milioni strategico il partner per il digestore in questo articolo si riassume in modo particolare l'intervento del dirigente pietro celani che ieri ha spiegato quanto sia importante l'apporto finanziario di aset nel bilancio comunale e se questo dovesse a un certo punto cessare perché l'aset non sarà più nelle condizioni di gestire i servizi ebbene ne risenterà molto molto criticamente anche il bilancio del comune infatti nei prossimi anni sono in scadenza la è in scadenza la gestione di diversi servizi il primo scade il 31 dicembre prossimo e riguarda la gestione del gas e poi abbiamo anche la gestione dei rifiuti sui quali però c'è un contenzioso tra l'aset e la autorità d'ambito insomma fano ritiene che la scadenza sia fissata al 2050 mentre l'autorità d'ambito la fa più precoce e la porta al 2030 e poi abbiamo la scadenza dell'acqua fissata al gennaio del 2028 importanti queste gare perché appunto se l'aset non le vincesse perdirebbe appunto la gestione di questi servizi ma l'aset da sola una piccola azienda provinciale può sperare di competere con le grandi aziende di carattere nazionale e questo l'interrogativo che ha sollevato celani e che hanno animato e che ha animato in modo particolare anche il dibattito in questi giorni perché l'aset avrebbe la necessità di imparentarsi di associarsi con aziende molto molto più forte quelle che ha detto sempre celani hanno un bilancio che supera un miliardo di euro l'erosione adesso aggredisce la passeggiata verso il lisipo scoperto dalla protezione l'ultimo tratto di sassonia vari rinvii dell'impresa che dovrebbe ultimare le scogliere a protezione dei bagni gabriele e carlo ebbene il mare va di nuovo all'attacco siamo nella cattiva stagione le mareggiate si susseguono alle mareggiate e l'argine che protegge la spiaggia ma diciamo meglio che protegge la diga foranea del porto mostra cedimenti il mare va all'attacco della passeggiata dell'isipo non è che sia minacciata la tenuta ma i segni che le mareggiate hanno lasciato sul terrapieno che sorge sul camminamento sono molto significativi e quindi la costa va protetta recupero tari non vessate ora le famiglie è un intervento di fratelli d'italia con il suo referente politico la manocchi che loretta manocchi che chiede appunto che ci sia un intervento di aiuto più che un controllo sulla evasione proprio in questo momento sulla evasione tari che mette in difficoltà molte molte famiglie poi vedremo anche come il resto del carlino tratta questo argomento che da alcuni giorni campeggia sui giornali relativamente alle cartelle di accertamento tari pregresse fratelli d'italia suggerisce il congelamento di quelle partite dal febbraio del 2020 ad oltranza e la garanzia del contraddittorio da concendersi preventivamente come richiesto da varie associazioni di consumatori quindi se c'è qualcosa che non va e si riscontra che nelle dichiarazioni c'è qualcosa da chiarire si invita appunto la concessionaria a chiamare l'utente attivare un confronto e poi eventualmente prendere le relative decisioni Shoah la tragedia nelle storie raccontate e anche cancellate si svolge oggi online questa volta e non in presenza una seduta monografica del consiglio comunale di Fano dedicata al giorno della memoria il giorno che ricorda l'ecidio degli ebrei l'olocausto la storica maria bacchi oggi presenterà alle 18 al consiglio monotematico online la sua relazione è un intervento intitolato le tracce e i silenzi diari lettere e frantumi tra guerra e dopoguerra maria bacchi mantovana di 71 anni fa parte del comitato scientifico fondazione villa em ragazzi ebrei salvati si occupa di storia dell'infanzia nelle guerre del novecento e di trasmissioni della storia in una società multiculturale una conferenza interessante dunque che fa riflettere e che mostra conoscenza per quanto riguarda quello che accadde negli anni 40 sport in corso di programma manutenzioni e questo articolo a fondo pagina del Corriere Adriatico evidenzia gli interventi dell'amministrazione comunale negli impianti sportivi Andrea Maduzzi evidenzia come l'investimento complessivo dell'amministrazione sia di 260 mila euro e come verranno impiegati questi soldi verranno distribuiti su due diversi progetti che interessano una dozzina di impianti e tra questi rientra la permeabilizzazione del tetto della Dini Salvalai vi ricordate cadeva l'acqua proprio alla vigilia di una partita e poi fari nuovi al campo di Gimarra tra le cose fatte poi figurano anche il relamping ovvero la sostituzione delle lampade usuali quelle normali con quelle a led nell'impianto di illuminazione del campo dei carissimi in via Fanella e poi abbiamo la parziale riqualificazione energetica dell'impianto luci del circolo tennis alla trave e il rifacimento della recinzione del diamante del baseball sempre alla trave un intervento in programma anche allo skate park di Sant'Orso e poi l'efficientamento energetico anche della struttura sportiva di Ponte Sasso il circolo di Ponte Sasso che è un po' un centro non solo di carattere sportivo ma anche di aggregazione sociale della frazione famiglia in quarantena sfrattata dal suo alloggio interviene Maurizio Tomassini che rappresenta l'ACNI non solo a livello locale ma anche a livello regionale sono veramente i casi emblematici per quanto riguarda la crisi che è stata raddoppiata da quella del covid da quella del caro vita con l'aumento delle bollette l'aumento del costo energetico l'aumento dei carburanti che mette veramente in difficoltà tante famiglie che non riescono più ad arrivare la fine del mese specialmente quelle che vivono in una casa in affitto pensate la situazione di una famiglia che è in quarantena e deve essere sfrattata insomma veramente si arriva al parossismo vediamo anche la pagina di Senigallia ora ora si sbloccano gli alloggi popolari la primavera porterà a Senigallia 68 nuove case Cameruccio che è l'assessore al bilancio del comune di Senigallia dice che l'ERAP è pronto a consegnare appartamenti a Marzocca a San Silvestro e a Cesano veramente c'è tanto tanto bisogno di nuove case tutti i centri della provincia sono in emergenza abitativa e quando purtroppo se ne fanno col contagocce ma quanto se ne fanno veramente è un tassello prezioso che si fa unire ai provvedimenti contro la povertà delle famiglie il vescovo nelle strutture di accoglienza della Caritas Manenti ha colloquio con mamma e figlio in cerca di una nuova vita e per nella fase diocesana del sinodo universale una vera consultazione del popolo di Dio il vescovo Franco Manenti è entrato nelle strutture di accoglienza delle Caritas e le sue parole sono parole di grande conforto per quanto riguarda appunto l'attività di questa associazione e vediamo anche le pagine pesaresi del Corriere Adriatico si parla di trasporto pubblico tra calo passeggeri e caro prezzi il direttore Benedetti tra Green Pass e restrizioni avverte che ci sono forti avvisaglie di questo di queste difficoltà ma a gennaio è arrivata veramente la mazzata i prezzi dei carburanti vanno alle stelle con costi cresciuti fino al 30 per cento ma anche di più per quanto riguarda il metano non stanno meglio le attività dei Corrieri e diamo un'occhiata all'aumento del costo della energia il costo del metano su dato della confartigianato si attesta 2,70 euro al chilogrammo contro la fascia precedente di 0,80 quindi è cresciuto più del doppio non solo il 30 per cento il 30 per cento invece riguarda il costo del diesel per quanto riguarda l'aumento subito oggi invece varia da 1.568 a 1.629 al litro cantiere di via Fratti riaperto il collegamento con via Giolitti ma ci vorranno altri tre mesi per stabilizzare gli scavi dei sottoservizi a giorni il bando di gara cantiere per la nuova ciclabile al via quest'estate lo assicura l'assessore Enzo Belloni l'assessore pesarese Enzo Belloni mentre a Fossombrone si evidenzia come la Flaminia divida in due tutta la città con troppi rischi i cittadini scrivono una lettera la soluzione sarebbe un sottopasso che eviterebbe un punto molto molto critico perché da una parte ci sono molti servizi per esempio molte strutture anche come il palazzetto dello sport il parco cittadino e fluviale e poi dall'altro invece Portafano con il centro semaforico le mosse insomma abbiamo due punti che attirano molto un traffico nevralgico e in mezzo proprio la strada Flaminia con grande traffico anch'essa Green Pass per ritirare la pensione i piccoli uffici rischiano la paralisi attenzione dal 1 febbraio non si entra alle poste senza il Green Pass di base e non è stata fatta un'eccezione nemmeno per chi deve ritirare la propria pensione qual è l'alternativa in questo caso l'alternativa è delegare qualcuno di fiducia al ritiro della somma allo sportello o dotarsi entro la fine mese di una carta su cui fare accreditare fin da subito l'importo che deve essere riscosso vediamo il titolo Green Pass per ritirare la pensione i piccoli uffici rischiano la paralisi ieri la CGL di Pesaro ha scritto una lettera al prefetto per evidenziare le ricadute sui dipendenti e poi abbiamo un nuovo tour del camper vaccinale a Vallefoglia che ha permesso di anticipare le dosi soddisfatto il sindaco Ucchielli che annuncia domani e venerdì inoculazioni del siero alla casa della salute è molto apprezzato il servizio sotto casa risparmia un viaggio a Pesaro e anche questo è un disagio per coloro che stanno nell'entroterra oltre alle soste che poi devono osservare quando si formano quelle lunghe file di fronte agli hub ai centri vaccinali nuova stazione ferroviaria cantiere aperto a fine anno l'ipotesi dell'arretramento dei binari non ferma la riqualificazione dell'area comunque va rilento in attesa delle decisioni delle ferrovie se veramente attuare questo spostamento della linea ferroviaria dalla costa all'immediato entroterra per sollevare appunto la linea di costa dai binari ebbe insomma la qualificazione della stazione anche se confermata può attendere un pochino e poi vediamo come ancora il Corriere parli dei disagi che in questo momento le categorie più deboli stanno sopportando per la stagione emergenza freddo delle fasce più deboli la Caritas a sostegno di chi non ha una casa Mancini che è il coordinatore della Caritas di Pesaro dice non basta possedere un tetto è necessario anche avere risorse per gli affitti e il pagamento delle bollette e vediamo anche un inciso a casa Tabanelli che è quella casa che è stata realizzata grazie al sostegno dei Lions pesaresi posti letto ridotti per il distanziamento anche questo osse serve appunto in questo momento e poi una notizia di cronaca picchia e tenta di soffocare la moglie ma lei finisce in TSO per ubriachezza illegale che difende l'imputato si tratta di un uomo di 40 anni pesarese che è accusato di essere venuto meno ai doveri morali e materiali nei confronti della donna con la quale ha avuto una figlia dice dimostreremo che il mio cliente in questa vicenda è lui la vittima anche se poi ha infierito sulla donna con appunto una violenza così come viene accusato di avere fatto ed ora passiamo al resto del Carlino il resto del Carlino questa mattina evidenzia una scoperta archeologica a Fano spunta una fornace di 300 anni fa i resti sono emersi tra via della giustizia e viale Kennedy davanti all'area di sosta dei camper dove saranno realizzati degli appartamenti ed è lo stesso proprietario dell'area che ha chiesto alla sovrintendenza di fare dei sondaggi preventivi ed è stata una decisione saggia perché appunto è venuta alla luce questa a fornace la vediamo qui con i muri che sono venuti appunto allo scoperto in merito agli scavi fatti alla presenza ovviamente della sovrintendenza tramite una società di archeologia ne parla la Raffaella Ciuccarelli che è il funzionario archeologo della sovrintendenza delle Marche con grande lucimiranza questo proprietario ha voluto effettuare questi saggi preventivi la sovrintendenza è impegnata a mettere in sicurezza il cantiere che una volta effettuati gli ulteriori accertamenti sarà ricoperto purtroppo insomma questi reperti poi vengono ricoperti anche per conservarli perché poi non vengono considerati insomma eccezionali anche perché poi la casa che è stata progettata la si deve costruire sopra insomma queste cose poi vengono ricoperte città dei bambini è un modello da valorizzare lo dice marta ruggeri consigliere regionale del movimento 5 stelle che chiede più risorse alla regione per valorizzare questo progetto che è partito da fano e poi è stato replicato da molti comuni in tutta italia e anche all'estero anche il Carlino parla della riunione della commissione garanzia e controllo di ieri pomeriggio fusione tra Aset e Marche Multiservizi caccia alle carte segrete che non ci sono perché sia il sindaco che l'assessore Mascarini ieri hanno negato che vi siano documenti che parlino di un'ipotetica fusione tra Marche Multiservizi ed Aset il caso sul futuro dell'azienda è approdato appunto in commissione i consiglieri incalzano seri nessuna proposta scritta e c'è anche tensione con l'assessore Mascarini l'altro fronte è quello del biodigestore l'esame delle proposte per la ricerca di un partner è in corso sono quattro appunto le risposte alla richiesta di interesse per quanto riguarda la possibilità di realizzare questo impianto entro metà febbraio la relazione dell'esito di questa gara fronte dell'ido è qui che nascono le hit una pagina quella pagina dedicata ai personaggi da Silvano Clappis prende in esame oggi Roberto Casini bolognese storico collaboratore e batterista di Vasco Rossi che ha trovato sul lungomare fanese la sua fonte di ispirazione ebbene anche la nostra città ha questo ascendente nei confronti che vengono da fuori e molti dicono che Fano è una città molto molto bella biodigestore di barchi nuovo round in provincia la Feronia che intende costruire l'impianto ha presentato le integrazioni ma nel frattempo si solleva ancora di più la contrarietà la protesta appunto dei cittadini per la realizzazione di questo impianto in quel di barchi il comitato prosegue dunque la sua battaglia l'appello rivolto soprattutto alla provincia l'ente di via Gramsci respinga l'istanza ma c'è anche chi ha espresso un parere positivo e poi vediamo a fondo pagina una presa di posizione dell'ex consigliere regionale Boris Rapa sul caro Bollette la regione tolga subito l'addizionale sul gas la proposta dell'ex membro dell'assemblea legislativa e attuale segretario marchigiano del partito socialista chissà che venga ascoltato a Urbino il covid rallenta le lauree torneranno presto dal vivo e anche le elezioni in presenza la università annuncia che per il mese di febbraio si dovrebbe tornare almeno secondo le previsioni alla normalità il palazzo ducale con i muri ricoperti da fossili la scoperta dei paleontologi che analizzano le pietre di milioni di anni fa l'edificio costruito con materiale scavato nell'apennino e lo vediamo qui nella fotografia nel pavimento della piazza antistante il palazzo ducale vediamo un bellissimo fossile segno che appunto queste pietre sono state scavate nel nostro appennino che molti migliaia di anni fa era sommerso da un oceano l'oceano cosiddetto della Tetide un segno quello delle conchiglie delle grandi conchiglie che si trovano anche nelle pietre del Furlo le si trovano anche in altre città dove queste pietre sono servite per costruire dei monumenti e sono i segni inequivocabili della storia milionaria non dico millenaria appunto del nostro pianeta carenza dei medici al 118 garantiamo noi infermieri e la rappresentante della categoria Armillei spiega che non c'è alcun timore insomma gli infermieri suppliscono anche la carenza dei medici e veniamo alle pagine pesaresi restando sempre sul tema della sanità falsi tamponi positivi per avere il Green Pass il farmacista dichiara me li chiedono ogni giorno Claudio Mari della San Salvatore in Largo Aldomoro a Pesaro svela il retroscena oltre 100 persone a ferma ci hanno provato ho detto no parliamo di gente che non si vaccina per paura quasi tutti over 50 ora aspirano ad avere il certificato verde dei guariti insomma un caso significativo e poi ancora i miei figli hanno fatto già tre quarantene sotto i sei anni i tamponi non hanno senso è lo sfogo di una mamma di Andrea Auriemma che è poi infermiere al pronto soccorso questa è una gestione inutile e feroce che crea danni devastanti afferma lo sviluppo dei nostri ragazzi troppo semplice chiudere per dieci giorni al primo sospetto che magari poi si rivela si rivela soltanto un raffreddore e sono queste le discrepanze i problemi che sorgono da una normativa che lascia spesso dei buchi vuoti dei larghi spazi da riempire nidi e materne a casa più di 230 bambini in sette giorni svuotate un terzo delle classe e l'assessore Camilla Murgia il nuovo assessore che dice semplificare le procedure anche se non manifestano i sintomi i piccoli sono un veicolo di contagio e quindi occorre prendere provvedimenti che tutelino un po' gli altri i ragazzi a cui stanno a contatto aiuto scade il Green Pass e in 22.000 sono a rischio devono fare la terza dose entro fine mese e ieri sono arrivati gli SMS da oggi nei centri vaccinali ci sono oltre 800 posti al giorno prenotabili attenzione la scadenza del Green Pass poi chi fa la terza dose la scadenza viene prolungata per chi è rimasto con due dosi oppure con una dose sola insomma c'è un arco temporale in cui appunto il documento deve essere rinnovato ragazzi avanti il servizio civile vi aspetta viaggio tra le 30 offerte in provincia chi vuol fare questa esperienza di grande valore sociale di grande valore etico appunto può aderire a questi progetti c'è spazio anche per chi voglia dare una mano animando il Santa Colomba quindi le occasioni di volontariato sono molte e sono varie e siamo ormai in conclusione vediamo anche un altro esplà del ristoratore Carriera offro un milione per un ristorante di Remigio mi sembra un grande blef il noto anti-green pass così viene definito Carriera oggi dal Carlino invita a farsi avanti e lascia anche tanto di numero di cellulare parlo a nome di investitori di Varese ha detto ma il presidente della categoria aggiunge il 50% dei colleghi è in crisi nel corso del 2021 abbiamo perso il 35% del fatturato e sappiamo come appunto il settore della ristorazione ha subito i disagi più gravi per quanto riguarda la normativa anti-covid lo sport visse sulle tracce di Adamoli e Alessandrini va a Pistoia Adamoli è il difensore sinistro di un nuovo under l'anno scorso ha giocato 29 partite con la Lucchese può arrivare il giovane in uscita dal Cesena e di proprietà dell'Empoli l'ex allenatore bianco-rosso guiderà i toscani in crisi prossimi avversari dunque da un allenatore ex vis a un tecnico ex vis la sfida contro la Pistoiese domenica alle ore 14.30 metterà di nuovo di fronte il passato appunto di coloro che aderiscono a queste squadre e poi vediamo invece il Fano Calcio il Fano Calcio che si appresta ad affrontare un turno nefasto così come intitola il Carlino turno nefasto le altre si muovono Fano adesso in piena zona play-out la vittoria di Monte Giorgio e il pari tra Samba e Pineto fanno scivolare Granata al terzultimo posto una situazione molto molto scomoda per il Fano Calcio mentre la VL è senza micce bomba o non bomba a Trieste la squadra di casa ha stabilito un record con il 68% quanto è stata una serata di grazia e quanto un demerito di Pesaro è l'interrogativo che viene sollevato dal quotidiano ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 e come sempre notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera nel Occhio alla Notizia condotto da Simona Zonghetti buona giornata Grazie a tutti